Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi un video stranissimo, diversissimo, un'azienda che ho scoperto per puro caso, una scoperta bellissima, devo dirvi la verità, perché sono quei profumi super low cost che magari trovate in alcune, non profumerie secondo me, però alcune catene le hanno e sto parlando dell'azienda Airval International. Da quello che ho letto un po' sul loro sito, è un'attività che va avanti dal 1979 e si occupa prevalentemente e prettamente di profumi infantili per bimbi e bimbe. Quindi io quando ho visto questi profumi di cui non sapevo assolutamente niente, ho voluto provarli, sperimentarli per voi, purtroppo mi manca una fragranza della collezione delle principesse Disney, che detta così fa un po' ridere. Però io credo che, come vi dico sempre nei miei video, non basiamoci né sul marchio della fragranza né sul prezzo di una fragranza. Se vi incuriosisce, magari guardate un po' la piramide olfattiva su Fragrantica o comunque sui vari siti e vi può eventualmente incuriosire questa fragranza, perché non provarla? Cioè alla fine non precludetevi il fatto di annusare, come vi dico sempre. Quindi, morale della favola, sono andata in questa pseudo profumeria, che era una specie di bio profumeria, no neanche. Era un negozio che aveva davvero di tutto e di più, dal giardinaggio, all'alimentare, alla decorazione per la casa, e aveva questo reparto scontato del 30%, che aveva tutti i profumi, anche quelli un po' più vecchiotti, un po' più vintage, che a me piacevano moltissimo. Morale della favola, ho acquistato prima una fragranza, mi è piaciuta così tanto che sono tornata il giorno dopo a ricomprare la fragranza stessa, quindi ne volevo avere due, e poi alla fine ho comprato tutta la collezione, che sono praticamente le tre principesse principali della collezione, con le loro Eau de Parfum. Qui sotto, in descrizione, vi lascio il sito perché è molto bello, mi piace un sacco, e poi davvero, ci sono davvero tutte le fragranze del mondo, da Spider-Man a Hulk a Tom & Jerry, cioè ci sono davvero di tutto e di più. Se volete fare dei regali ai vostri bambini, ai vostri figli, beh, perché non cominciare da loro, sono proprio fatti apposta, sono sicuramente un po' più puliti come inci rispetto ai profumi che utilizzano gli adulti, li ho controllati tutti, però devo dirvi che non hanno niente a che fare con né dupe, né fragranze che possono passare in secondo piano, anzi, veramente una bella scoperta. Non c'è una vera e propria classifica, perché, come vi dicevo prima, sono, io ho comprato queste tre fragranze, che poi sono quattro, due, sono uguali, e sono tutte e tre rispetto alle principesse. Adesso vi faccio vedere una per una. Hanno dei prezzi differenti, io l'ho lasciata ancora sulla confezione, e praticamente dovrebbero essere quattro principesse, in cui c'è Belle, della Belle e la Bestia, Ariel, che è appunto la sirenetta, Cenerentola, la classica Cenerentola, e poi c'era anche Snow White, quindi Biancaneve. Purtroppo a scaffale Biancaneve c'era, ma era tutto ammaccato, mancava mezzo prodotto, quindi non l'ho acquistato, anche se avrei voluto, però era veramente rovinatissimo, strano che lo tengono a scaffale, comunque. Allora, vi parlo brevemente di ciascuna delle fragranze, parto da Belle, che è quella che costa un pochettino di più, e che è quella un pochettino più strutturata come fragranza. Allora, il fecone è così, è molto molto elegante, per essere un nude parfum per bambine, cioè mi aspettavo magari il packaging un po' più blando, invece no, proprio bello. Allora, praticamente lui è un profumo basato sulla rosa di Damasco, ed è una rosa di Damasco molto particolare, io la riconosco abbastanza bene le tipologie di rose, nel tempo ho imparato proprio a distinguerle nettamente, distintamente. Si apre con la scorza di arancia sanguinella dolcissima, del neroli, della rosa di Damasco, e una cremosissima magnoglia. Lui è un profumo che ha una persistenza veramente allucinante, che voi mettete al mattino e avete alla sera. Lui è quello che ho sperimentato un po' meno, e devo dirvi la verità, non è quello che amo di più al momento, direi che forse è il secondo in posizione, ed è uno di quei profumi da super scia. È una nota rosata di Damasco, appunto, dove si sente tantissimo la nota dell'arancia sanguinella, dolce dolce, ma un po' amara. E poi c'è questa nota di magnoglia quasi metallica, quasi ariosa, molto fitta, che veramente sembra di avere un buchè di rose, fiori, molto, molto dolci, ma molto, molto, come posso dirvi, non talcate, non cipriate, ma sembra di avere una polvere di rosa, con questa nota di magnoglia, intrigante e molto, molto cremosa. Quindi, belle tra tutti, è secondo me indicato più a quelle persone che amano i buchè fioriti, molto, molto di impatto, molto brillanti, che però hanno questa particolarità di essere prevalentemente basati sui fiori. L'altra fragranza di cui vi parlo è ispirata a Cenerentola, qui avete il vostro packaging molto, molto bello, fantastico, mi piace un sacco, anche qua ho tenuto il prezzo. Allora, Cinderella è uno, mi piaceva tantissimo il pack, adesso ve lo faccio vedere, ha questa sua scarpina di acciaio, di metallo, appesa, e il packaging è così, in questo modo. Tra tutti, ragazze, questo è quello che meno mi sento mio, è molto, molto simile allo stile di La Vie est Belle, ha questa nota di iris, gersomino molto forte, legnoso, con la vaniglia, anche lui, non capisco come sia possibile, ha una bellissima persistenza, ha una nota inconfondibile di praline di cioccolato, di paciuli e di ribes nero. Mi ricorda, come vi dicevo prima, la classica fragranza stile La Vie est Belle, ma trovo che sia più arioso, quindi, meno caramellato, meno cozzaglia di dolciumi, come io credo che sia, purtroppo, lasciatemelo dire, La Vie est Belle, ha questo retrogusto di paciuli quasi enigmatico, infatti mi stupisce che sia dedicato a una bambina, perché è veramente strutturato, lascia una fortissima scia, e ha questa particolarità di avere paciuli vaniglia e iris, caldi, enigmatici, paciulosi, veramente fantastico, come vi dicevo, io non sono amante della Vie est Belle, quindi con lui mi ritrovo un po' in difficoltà, ma l'ho indossato una sera e mi hanno fatto tutti i complimenti. Invece, l'ultimo di cui vi voglio parlare è Ariel, e come vi dicevo, ne ho acquistati due, allora questo è il packaging esterno con Ariel, fantastica qua, bellissima, prezzo l'ho visto, qui 8,90€ anche lui, questo è un po' il packaging, ovviamente non vi ho detto che sono tutti marchiati Disney, perché è una collaborazione con, tra AirVale International, che è questa azienda di profumi bambini, e appunto Disney Classico, e lui appunto è Ariel, ne ho presi due perché sono veramente innamorata di questo profumo, mi piace tantissimo, volevo voluto fare una piccola scorta, anzi ho chiesto alla commessa del posto dove sono andata a prenderli se li rifornivano, lei mi ha detto è possibile di sì, allora ho già prenotato un altro Ariel, allora vi parlo di lui che è un po' più nuovo, praticamente è una fragranza strafresca che ricorda un po' l'odore dell'anguria, ha delle note di peperosa favolosamente piccantino inizialmente, ha delle note di gesso mino e peonia bianca, quindi un fiorito fresco, candido, sa proprio di pulito questo profumo, ha una nota di frutto della passione, ha grumi dolci in apertura, sul fondo avete note di vetivè abbastanza pungente, quindi ottima persistenza e zucchero, lui è veramente il profumo che mi sta accompagnando nella mia estate, nonostante sia un profumo che magari qualcuno mi snobberà, eppure è come avere una fetta di anguria succulenta caramellata ma fresca e ariosa, mi sembra proprio un profumo acquatico, cioè se penso magari alle note del mare e alle note marine e alla favola di Ariel veramente mi intriga un sacco questo profumo, ma parlando proprio del juice, del liquido all'interno, ha una bella persistenza nonostante sia un profumo per bambini e veramente mi fa otto ore sulla pelle e mi dura anche più di profumi molto più cari di lui, il suo sillage è atomico, infatti appena l'ho spruzzato ma così ero in macchina l'avevo appena acquistato sono scesa e c'era il mio fidanzato che mi ha fatto subito il complimento che tutti che noi appassionati amiamo ma che buon profumo Sara che hai e allora gli ho detto sai quanto l'ho pagato gli ho fatto anche lo scherzo gli ho detto che l'avevo pagato 150 euro mi fa ah ok no poi gli ho detto la verità è un poveraccio mi sopporta con tutti i miei difetti e quindi assolutamente ragazze se siete indecise su profumi per l'estate e low cost e trovate questa marca andate sul sicuro perché mi sono trovata da dio con tutte e tre quindi lui secondo me è quello più dolce fresco estivo arioso frizzante dinamico glamour addirittura veramente non gli manca niente a questo profumo per curiosità vi faccio vedere anche il packaging di snow white ce l'ho qui in sull'ipad è questo quindi era anche molto bello come pack cioè avete questa melina rossa mangiucchiata adesso provo a andare a vedere eventualmente se ce l'hanno ancora comunque per curiosità mi sono andata a vedere le note ed è una fragranza che non credo mi potrebbe piacere ma mai dire mai basata sulle note del caffè fiori d'arancio paciuli vaniglia e gersomino ovviamente vi farò sapere vista così la piramide io col caffè non è che vado proprio d'accordissimo però ovviamente manca solo lui nella mia collezione delle principesse disney e vista la qualità dei prodotti e visto il rapporto qualità prezzo appena lo vedo disponibile vi giuro che me lo compro così ve ne posso parlare e se siete amanti della nota del caffè magari in snow white quindi in biancaneve potete magari ritrovare il vostro preferito molto bene ragazzi e ragazze anche per oggi il video è terminato se vi è piaciuto lasciatemi un like se conoscete Herbal International questa fantastica azienda che crea queste meravigliose piccole fragranze per bambini che poi alla fine sono delle potenze allucinanti scrivetemelo qua nei messaggi che io vi leggo sempre e se non siete ancora iscritti al mio canale beh iscrivetevi un bacio let's talk about